Ciao a tutti angeli e benvenuti in un nuovo video, chi sono io? Io sono Charlie O e oggi siamo riuniti nel sacro vincolo del Makeup Tutorial 2008 Prima di iniziare, perché lo sapete le mie intro di solito sono lunga almeno 4 minuti quindi dobbiamo un attimo prenderci del tempo per chiacchierare ma a me piace chiacchierare con voi Vi volevo ringraziare per i complimenti che mi avete fatto sotto lo scorso video dove, non lo so, mi avete fatto un sacco di complimenti sui nuovi capelli e il commento che mi ha fatto più ridere è stato quello che diceva che sembro un po' Gesù, un po' Maria Maddalena, un po' Andy Gibb Farò finta di sapere chi è Andy Gibb, così mi sento una persona più istruita In caso non lo sapeste e io non lo sapevo, Andy Gibb è stato un cantante della band Beigees o così, ora lo sappiamo tutti chi è Ma non è questo il punto, il punto è che a volte mi sento Maria Maddalena e Gesù Cioè non sempre insieme, a volte sì, però quello è un problema più a livello psichiatrico Di cosa tu stavo dicendo? Ah, io dicevo della parrucca, sì Grazie, siete stati molto gentili Però la cosa che mi fa molto ridere è che la parrucca va lavata Io l'ho imparato dopo un po' questa cosa, che le parrucche si lavano Però l'ho lavata, infatti sono molto, siete fuentes, come l'acqua in Sardegna Ehm, l'ho lavata con i prodotti Pantene Però mi sento un'imprenditrice digitale ora Doveva diventare una cosa più sexy, ma Mi sento la nostra chiarona nazionale Ma il video di oggi non è con chiarona Per quanto a me piacerebbe fare un video con chiarona Ma probabilmente chiarona, non lo so, mi odia Ehm, non penso neanche che Chiara sappia della mia esistenza Anche se c'è la regola dei segreti di conoscenza E io conosco Emanuele E quindi per un grado di conoscenza conosco Per un grado sì, conosco lei Madonna questa legge, poi un giorno ve ne devo raccontare Perché mi fa sentire troppo popolare Ma ancora, io sto straparlando Cosa dobbiamo fare oggi? Andiamo a fare un make-up tutorial con Clio Clio Make-up Clio Make-up è la mamma di tutti gli youtuber Beauty youtuber italiani E io non ho mai fatto un video con lei A Muni Intanto me ne esco con queste frasi così siciliane, romane Poliglotta È la mamma di tutti gli youtuber beauty italiani, diciamolo Perché se non ci fosse stata lei Io non sarei qui a raccontarvi cosa faccio nel make-up Forse sarei qui a raccontarvi altre cose E probabilmente a mettermi ancora di pieno in barazzo Perché fondamentalmente a me piace raccontarle a una macchinetta fotografica Il fatto che ci siete voi dietro a questa macchinetta fotografica A me fa sentire troppo speciale Cioè io mi sento proprio felice e orgoglioso di quello che stiamo costruendo ogni giorno Però ecco, il make-up è cambiato Questo è un dato di fatto Il make-up è cambiato negli ultimi... Dio santo è cambiato negli ultimi due mesi Figurati in vent'anni quasi quanto è cambiato il make-up E vediamo se effettivamente il modo in cui si truccava Clio Può essere comunque portabile nel 2022 Quasi nel 2023 Se ci arriviamo nel 2023 Perché anche questo non è sicuro Poi la cosa che mi piaceva dei tutorial di Clio È che avevano questi nomi fantasiosi, pazzeschi Tipo Rose Dusk Oppure Rosa nel deserto Bronze in gold Acqua marina Cioè ma sono dei titoli favolosi Ma io ci credo che nessuno guarda più i tutorial di make-up Non ci sono più questi nomi Ma da ora in poi i miei video si chiameranno tutti Mi trucco come l'alba nel deserto Madonna i brividi che si sentono con questa cosa Vabbè andiamo a scegliere il video Io in realtà il video l'ho già scelto Però faccio un po' di scenette Così così Lo tenete che sono anche un po' iperativo oggi Il fatto è che ho dormito più o meno 5 ore dopo pranzo Perché ero molto stanco e mi sento male Tra l'altro ho un'infiamazione del tunnel carpale Ho bevuto 4 caffè e ciò non aiuta Che poi io stavo pensando tra le varie cose Una è Chiarona nazionale L'altra è Cliona nazionale Io voglio essere la Ciarlonna nazionale Perché è un nome così poetico Quindi tipo in Toscana il ciarlare Il tipo il chiacchierare Io chiacchiero un sacco Quindi Ciarlonna è pazze Io da ora in poi sono la Ciarlonna nazionale Nome del canale sarà la Ciarlonna nazionale E tra poco internazionale Il make up tutorial di oggi si chiama Trucco brezza d'estate Un nome, una fantasia comunque Perché io mi immagino già questo trucco Va capito? Voi coricati così su una spiaggia delle Maldive O Ispertas in Sardegna Tanto uguale lo stesso Così a gambe all'aria Con una bella bronzatura Ma sempre con la protezione solare 50 E siete lì con questo trucco da sera Questa brezza che vi arriva tra le poesie Cioè vi fa vivere già la fantasia Ma andiamo a sentire cosa ci dice la nostra amica Cleonza Cleo mi fa morire perché lei 11 anni fa Questo video è di 11 anni fa ragazzi Voi non avete idea quanto fosse extra Andare in giro con un make up del genere Ancora oggi quando magari si va in giro truccati E non mi riferisco solo ai ragazzi che si truccano Che figuriamoci Ma anche delle ragazze che sono truccate magari un po' più extra Ma dovete vedere come vengono squadrate per strada Cioè figurate Cleo un'eroina nazionale posso dirlo Sono serio in questo momento Cleo è stata un'eroina nazionale Perché ha combattuto e ha normalizzato un po' il make up in Italia Brava Cleo Molto brava No lo dico proprio seriamente So che non sembro serio con questa parrucca E queste mollettine tipo messe da mentecato Però sono molto serio Scusate che quest'anno non facendo le vacanze estive Siamo andati soltanto quei 5 giorni in giomaica Cleo così Non ha fatto le vacanze è andata 5 giorni in giomaica Io quando non faccio le vacanze Vado 5 giorni a Plata Monarch Vabbè ma Cleo era già una superstar del resto Applico come base il primer coat Va a applicare il primer di Urban Decay Io quel primer non ce l'ho L'ho provato una volta e l'ho finito Quindi vado a prendere qualcosa di simile E ci rivediamo subito Dicevo Non dicevo nulla Ho fatto anche la base off camera Perché secondo me la nostra La nostra cliona Ce l'ha già la base fatta E non se la rimuove per nulla al mondo E quindi ho detto Vabbè me la faccio off camera Tanto Più o meno sempre la stessa cosa Ho cambiato giusto i prodotti che trovate qui sotto Ma la pizza si fa sempre nello stesso modo voglio dire E quindi La nostra amica si va a mettere il primer Ora lei penso lo stenda con le dita Il problema è che io ho le unghie chilometriche E raggiungere certi Sono per dire certi infissi That's weird Certi anfratti dell'occhio E' un attimo compliché Però Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Diciamo che ce l'ho fatta Poi lei va a usare questo pigmento viola Un pigmento dello MAC Questo si chiama Lovely Lily Io però non ho quel pigmento Penso sia andato letteralmente fuori produzione Però io ho visto che è un violettino Lillino Quindi secondo me posso prendere la Norvina a volume 1 E fare un mix tra AB5 e A1 E fare un mix e vedere se riesco a replicare quel colore Poi lei lo stende Messo nella prima parte dell'occhio Ah nella prima parte dell'occhio Quindi proprio leva nell'angolo interno Con un pennellino che mi sembra molto fine Vi dico la verità Io uso solo A1 Perché a me sembra molto chiaro quel pigmento che usa lei Sì secondo me ci sta Ok messo nella prima parte dell'occhio Comunque anche lì io posso dire che Capisco perché era così seguita Dà proprio informazioni base e dirette Cioè non è come me che si perde a parlare Non lo so di che tempo c'era in quella nottata del 1862 in Alabama Lei diretta basta come un treno Io mi scuso per questa fascia ma sto soffrendo in questi giorni di dolore al tunnel carpale Perché evidentemente io c'era quella nottata in Alabama di nevicate del 1862 e mi fa male Quindi sono con questa fascia non ho trovato manco un tutorial in realtà ne ho trovato uno ma costava 60 euro Ho detto mi compro una palette Prendo un lila più scuro opaco Questa è della Inglot Prendo un viola più scuro opaco della Inglot E lo stendi Io non ho mono Della Inglot Però prendo sempre questa palette Di Anastasia La volume 1 Che ha un sacco di viola E lo metto nella seconda parte Si tira l'occhio lei per farlo Vi spiego Io ho l'occhio Non lo tiro Non lo tirerei mai Perché cosa succede? Questa è proprio una cosa Che secondo me dovete sapere Secondo me non è lo stesso viola Il suo viola è più freddo Proviamo Ecco Già qua Vabbè la pigmentazione non è esattamente quella del 2012 Del 2010 Però vabbè Diciamo Cosa succede? Se tirate l'occhio La vostra forma dell'occhio Non è quella che state tirando Quindi poi Nel momento in cui L'occhio ritorna nella sua posizione Avrete una forma completamente diversa Da quella che stavate lavorando Quindi questa cosa Si usava molto Lo fa anche mia madre Di tirarsi l'occhio Perché Si cerca di E' più facile lavorare Chiaramente su una pelle liscia Però chiaramente la nostra pelle Non è liscia Quando è Quando è rilassata Quindi cerchiamo sempre di lavorarlo Magari con un po' più di difficoltà Però con l'occhio normale Io ora sono già in crisi Perché ho già voglia di sfumare tutto Però devo vedere cosa ci dice Clio Tra l'altro lei ha detto che è opaco Io vedo che è l'occhio Nella terza parte il verde acqua Ah nella terza parte proprio Lei va dritta Neanche si mette lì a sfumare Via Vai Clio E io vado a prendere Il D1 D1 Della volume 2 Di Nortina E queste palette hanno perso un sacco di hype A me dispiace molto Perché secondo me sono delle palette Sono delle palette Che valgono tantissimo Cioè costano anche l'ira di Dio Fatevelo dire Costano 70 euro Però Tipo Durante il Black Friday Le trovate anche a 50 Molto spesso Anche durante i saldi Io non ce la faccio Anche durante i saldi Le trovate a 50 euro Che è comunque tanto Però credetemi Sono delle palette Che valgono Io faccio anche Del collezionismo Chiaramente Però Probabilmente sarebbero Delle palette Che comprerei Perché sono belle Pigmentate Facili da lavorare E soprattutto Sono piene di colori Quindi io queste palette Ve le consiglio E anche sotto E come ultimo colore Un blu scuro Sempre dell'inglot Questo però Non è opaco Si chiama double sparkle È un blu Con dei riflessi Color silver Color grigio Argento Buonanotte Vi avete tutti i colori Lì è un po' confuta Su cosa sta facendo Sta andando a mettere Un ombretto Sempre di inglot Blu Che a me stavolta Sembrava opaco Ma non era opaco Con dei riflessi Argento silver Freddi comunque E la nostra Clio Lì era un attimo Confusa Si era bevuta Troppo sangria In questa preza estiva E lo metto Sopra Il verde acqua Lo metto poco Cioè lei Ora sta andando Col colore Più scuro Qua Mamma mia Camurria Vi spiego Perché mi esce Questo ciclo Ogni tanto A parte che Sono in fissa Con una delle mie Youtuber preferite italiane Che è Gloria Maria Corso Ma mi ricorda tantissimo Un'amica di famiglia Cetti Ciao Cetti Se stai guardando Che è palermitana E quindi io L'ho frequentata un sacco Questa amica di famiglia Quando ero piccolo Poi lei si è ritrasferita In Sicilia E mi ricordo Che ogni tanto L'usciva proprio Camurria E quindi a me È rimasto Questo camurria Amuni E tale E quindi ogni tanto Cerco di non farlo Troppo spesso Perché Mi rendo conto Che Se non si sa Questo background Può essere un po' Insultante Il fatto che Mi escano parole Mezzo in sicuro Però ecco È una In realtà È una cosa Affettiva Sì però Gioia È opaco Io non so La nostra Clio Secondo me Qui Si era un attimo Bevuta Un po' Troppo spritz Perché È opaco È proprio Sbagliato E adesso Inizio Piano piano A sfumarli insieme Ora Finalmente Vi possiamo sfumare E Man mano Per il vado a sfumare Prendo ancora Un po' Del primo E lo porto Indentro Qui ora Le va a Calcare I prodotti E gli sfuma A me sembra Uno di quei trucchi Virali Che andavano Per un periodo Su tiktok Dove Praticamente Tre strisciazze Di colore E poi Le sfumi insieme La sensazione È quella Io sono Nel parere Che non posso Uscire un bel risultato Però Se l'ha detto Clio Io mi fido E vado A sfumare Lei come sta sfumando Ogni tanto Aggiungo il colore L'effetto È più o meno Questo Ora Lei cosa fa Ah Lei ora fa Direttamente L'eyeliner Quindi io penso Che L'ombretto Sia finito Cioè La situazione È questa E questa Ci teniamo A questo punto Inizio Con un pennello Penna No pennello Penna Eyeliner Penna Niente In questo video Non c'è Chiaramente il video Dove Clio Era ubriaca L'ho beccato Io Pennello Pennello Eyeliner In penna Si tira L'occhio Qui fa La codina Con l'occhio Aperto Metto La matita nera All'interno Dell'occhio Se sopra Che sotto Ma io Lo sapevo Io Lo sapevo Che sarebbe Arrivata La matita Nera Perché La matita Nera In quegli anni Era un obbligo Cioè Se non avevi La matita nera Dove vorrei andare Questa matita nera Mi sta E come un girasole Giro intorno a te Che sei il mio sole Anche di notte Ok Ho temperato La matita E ora vado A metterla Dentro l'occhio Devo dirvi Che con questo Make up Mi sento Nel 2010 E metto Il mascara Dunque Cioè È incredibile Quanto è cambiato Il make up Noi ridiamo In scherziamo Lo diciamo Sempre questa cosa Ma Vederlo effettivamente In un video È una cosa Assurda Cioè Io penso che Mia madre Farebbe un trucco Così perché Lei comunque È della scuola Degli shimmer È pochi Opachi E quindi E quindi Rivedo molto Questo make up Poi sono proprio I colori Che userebbe Mia madre Ma io non lo farei Magari userei Anche questi Colori Però non li userei Mai così Sulle guance Poi metto Un po' Di blush Questo Questo qua Della Una delle ultime Collezioni Mecca Quella del Quella del mare È un pesca Vanno a applicare Un blush È applicato Il blush Pesca Io Ho Ma uso questo Di pesca Che è un arancionino E lo sfumo Un po' Con questo E via che Si è creato Il pesca E lo metto Sulle guance Chiaramente Ho usato Un ombretto Quindi è Iperpigmentato Lo vado A annullare Un po' Con la spugnetta Bagnata Però non c'avevo Voglia di andare A prendere Un altro Blush E sulle labbra Metto un gloss Color Nude Con i glitteroni Giganti Questo qua Della mecca Vado anche a mettere Un gloss nude Che ha delle perle Oro Queste di Chanel Prima un po' Di ASMR Non fate i maiali Però Questo gloss È meraviglioso Eccoci tornati Ho fatto anche L'altro occhio E Devo dirvi Paradossalmente Non so se sia Perché c'è la matita E comunque L'eyeliner Ma mi piace Non lo so Mi vedo Gli occhi Belli Proprio luminosi Sarà che Ho pianto prima E quindi sono Belli Luminosi Però Però Non dico Che è un make up Che mi farei oggi Ma Solo perché Non è più Un make up Di oggi Un make up Che andava bene Nel 2010 Però Chiaramente Non è più Un make up Che useremo oggi Però devo dire Che non lo so Mi piace davvero Come mi rende Gli occhi Me li sento belli Un po' araba Però Anche dolci Tipo Una Una Ciarbiata Araba Io così Vivendo questa mia Fantasia Mi piace Devo dire Mi piace E quindi da me Da Clio Del 2008 Perché tanto Clio Non mi si caga Non sa neanche chi sono Ciao Clio Se mi guardi Non penso Ti salutiamo E quindi È arrivato il momento Io devo andare a mangiarmi Il mio Burger King Perché Sono molto triste È Black Friday Quindi c'è solo un modo Con cui io posso Risolvere questa mia Tristezza Ovvero Mangiando e spendendo Tutti i miei soldi A parte questo Angeli Noi ci vediamo Con un prossimo video Martedì Ogni volta che lo dico Non riesco mai a pubblicare In tempo Però Quindi Noi ci vediamo La prossima volta Con un nuovo video Fatemi sapere anche Che video vorreste Ne ho già pianificato Un sacco Dalla settimana prossima È vlogmas Io non so se Magari Non lo so Ci sono tante cose Che ho in mente Vediamo se riesco A fare tutto Ma fino alla prossima volta Be safe Be cool And Bio Ciao Angeli Grazie a tutti